Che ti stai sentendo? Eh? Che ti stai sentendo? Vieni, ascolta. Vieni. Dirillo che... Radiandorra. Se ci sentisse il duce. Chi lo fa così? Ma sotto sotto ci piace pure il Radiandorra. E quindi, siccome l'arte del Mariner è morire in mare, eccoci qua. Su questo sommergibile chiamato Cappellini, lungo 73 metri, largo 7, armato con due canoni da 100 e due mitragliere abbinati da 13 mm, quattro tubi lancia siluri da 5,33 a per ora e quattro pop, e una dotazione di 12 siluri da 5,33 a 300 proiettili per canone e 3.000 proiettili per mitragliere. Sì. So che mi considerano il capitano di corvetta più matto ed esaltato della regia marina italiana. Una scetta. Un facchilo. Cosa addirittura ne indovino? Io so che sono caduto con l'idrovolante e mi hanno rimesso in piedi in una corazza di ferro e cordame. Lo spirito greco mi ha parlato per bocca di Betti. il sarto. Lui. Protegge e governa il mio destino. La mia vittoria è la battaglia. Lui. 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 Lui.